L'attuazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Quali sono le novità più rilevanti? Intanto stiamo lavorando per costruire un impianto dei corsi di formazione che siano il più aderenti possibile alle esigenze reali dei settori produttivi. Su questo oggi Mauro Terzoni credo presenterà anche il progetto per lotti di ore che è una novità assoluta e che ci consentirà di essere molto più veloci e più flessibili per l'offerta formativa. Abbiamo alcuni bandi già in uscita, dovrebbero uscire nei prossimi giorni. Uno riguarda le borse lavoro over 30, visto che abbiamo fatto garanzia giovani per i ragazzi fino a 29 anni ora facciamo un intervento con delle borse lavoro per gli over 30. Uscirà un bando sull'autoimprenditorialità con 7 milioni e mezzo per 300 nuove imprese nella nostra regione e stiamo lavorando anche su un bando per la formazione ad occupazione garantita che è un bando che abbiamo già sperimentato a livello regionale uscirà intanto nell'area di crisi Picena ma poi potrà essere traslato tranquillamente in tutti gli altri territori. È un bando interessante perché la regione attraverso il Fondo Sociale Europeo finanzia la formazione su un progetto presentato dall'azienda e l'azienda si impegna, anzi meglio, si obbliga ad assumere il 60% dei corsisti. Questo ci aiuta molto sia per formare adeguatamente le persone perché il progetto è presentato dall'azienda e sia per creare nuova occupazione con l'impegno delle aziende ad assumere il 60% dei corsisti. Ha già funzionato e quindi contiamo soprattutto nelle aree di crisi di farlo funzionare ancora meglio perché in quelle aree le aziende hanno anche la possibilità di fare investimenti con altri fondi regionali e nazionali. Grazie a tutti!